Il campo basso mastica Amaro per il pareggio interno contro il Matelica e soprattutto per il modo con il quale è giunto dopo un primo tempo condotto bene la squadra di Cudini arretra pericolosamente e ha il torto di non chiudere la contesa. Il tecnico di casa avanza pizzutelli alle spalle di Alessandro e Giambè sarà una mossa interessante discutibile la direzione del signor Russo di Torre annunziata di fronte ai 1200 di Selvapiana gara preceduta da un minuto di commemorazione per la scomparsa dell'industriale Squinzi presidente del Sassuolo presente anche la dirigenza rosso blu al completo al secondo bella intuizione di Giambè in verticale per Alessandro aiutato da una distrazione difensiva ospite l'attaccante di casa alta sopra la traversa un'ottima palla a gol. Al sesto Dalmazzi è un po' corto nel disimpegno può andare Croce che trova una buona respinta di Natale la partita è bella passa qualche secondo ed Alessandro trova una buona parata di bigliardi sul primo palo si batte il corner abbastanza rapidamente da sinistra incrocia pizzutelli per Bontaghe dal fondo tocca la traversa sfortunato il campo basso Danilo Alessandro chiede due calci di rigore nel giro di pochi minuti la prima circostanza è al quarto d'ora quando c'è un contatto fra l'attaccante di casa e Visconti per Russo si può giocare così come si può giocare anche tre minuti più tardi quando lo spunto dello stesso Alessandro è intercettato forse dal braccio di Visconti Selva Piana protesta vivacemente ma anche qui il direttore di gara ignora il tutto il campo basso va in vantaggio al ventunesimo azione ficcante di Alessandro che mette al centro allontana De Moleonna al volo pizzutelli di destro non può nulla bigliardi 1 a 0 per il campo basso esplode Selva Piana giusto il vantaggio della squadra di Cudini il campo basso disputa un ottimo primo tempo di grande intensità al 26esimo in apprezzione la difesa di Colavitto rovescia Visconti deve retrocedere il portiere Bigliardi per deviare in calcio d'angolo una palla velenosa Matelica molto aperto e dedito all'offensiva 31esimo corridoio per Leonetti che viene ostacolato in maniera pulita da Brenci in angolo il primo tempo termina senza minuti di recupero Lupi in vantaggio in maniera legittima Colavitto decide un cambio nell'intervallo fuori croce dentro Massetti che sarà poi l'autore del pareggio il Matelica con il piede sull'acceleratore al quinto punizione di Bugaro tocca di testa Giambè che coglie il palo della porta sbagliata autopalo del campo basso anche fortunato qui nella circostanza vicinissima al raddoppio la squadra di casa al sesto da Alessandro a Brenci destro preciso ma fuori davvero di un nulla 13esimo la punizione di Bugaro è alzata in angolo da Natale dal 17esimo doppio cambio per Colavitto dentro Busi e Valenti fuori Demoleone e Peroni ospiti vicini al pareggio al 18esimo con un destro di bordo di pochissimo a lato al 21esimo dentro Candellori fuori Pizzutelli nel campo basso Colavitto gioca con le quattro punte ma non crea grosse occasioni da gol nell'area di rigore rosso-blu il campo basso fa una discreta amministrazione dell'incontro non rinunciando ad attaccare i cambi sembrano quasi segnare una partita a scacchi fra Cudini e Colavitto quest'ultimo rinuncia a Bugaro per far entrare Moretti Cudini intima a Giampaolo di riscaldarsi ma alla mezz'ora la frittata è fatta Brenci si fa sottrarre pala da Moretti che offre a Massetti siamo molto lontani dalla porta ma il destro del numero 16 vale il pareggio ospite anche a causa di un'indecisione di Natale è l'uno a uno che sarà anche il risultato finale nei lupi entra Giampaolo al posto di Brenci appena entrato al 32esimo lo stesso attaccante di casa mette al centro un pallone che Busi tocca in maniera evidentemente scomposta Selva Piana si agita per un calcio di rigore che non viene assegnato emblematica svista dell'assistente intorno al 34esimo quando Van Zan batte un fallo laterale per Alessandro segnalato un offside incredibile ai limiti del regolamento l'arbitro con la collaborazione dell'assistente più avveduto assegna una punizione al campo basso non esiste infatti fuori gioco da fallo laterale ma l'assistente lo ha ignorato in campo dal 40esimo Pistillo in luogo di Dalmazzi il campo basso non riesce in un vero e proprio forcing finale al 94esimo si riserva l'ultima possibilità con Giampaolo che dal fondo si inventa un'opportunità sventata sulla linea da De Santis a fine gara Selva Piana fischia i giocatori di casa ed evita il classico saluto il Matelica di Colavitto si prende un punto e torna nelle marche per il campo basso segnali positivi ma altra settimana pure di riflessione prima della trasferta di Sant'Elpidio